terza stazione della via lucis il risorto si manifesta alla maddalena ti adoriamo cristo risorto e ti benediciamo perché con la tua pasqua hai dato vita al mondo dal vangelo secondo giovanni maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli di bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di gesù ed essi le dissero donna perché piangi rispose loro hanno portato via il mio signore e non so dove lo hanno posto detto questo si voltò indietro e vide gesù che stava lì in piedi ma non sapeva che era gesù le disse gesù donna perché piangi chi cerchi essa pensando che fosse il custode del giardino gli disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove lo hai posto io andrò a prenderlo gesù le disse maria e allora voltatasi verso di lui gli disse in ebraico rabbuni che significa maestro gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre ma va dai miei fratelli e di loro io salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro maria di magdala andò subito ad annunziare discepoli ho visto il signore e anche ciò che le aveva detto dio non opera solo per svuotare ma si presenta per riempire la nostra vita ha svuotato una tomba di un cadavere e ha riempito il mondo della sua presenza viva luminosa radiosa risorta ha svuotato una tomba di un cadavere e ha riempito il mondo della sua luce gloriosa il dio creatore non spoglia mai gli alberi in inverno se non per riempirli di fiori nella primavera e di frutti nell'estate il dio salvatore non spoglia una sua creatura di qualche bene se non per riempirla di beni più grandi la tomba è svuotata dall'interno perché ogni cuore sia riempito della presenza del figlio glorioso di dio e la prima ad annunciare questo grande mistero di gioia è maria di magdala la gioia è la risposta del cuore alla presenza dell'amato questa è la vera gioia sentirsi amati e sentirsi capaci di amare maddalena stringe i piedi del maestro ma il maestro le ricorda che ogni bene ogni amore ogni gioia ogni speranza va condivisa e dichiara ora va annuncia e la donna diventa così apostola degli apostoli annunciatrice della speranza che ci abita e oggi tutti noi la chiesa che noi formiamo ha bisogno di rifare questo itinerario della contemplazione come gioia come godimento del risorto della gloria luminosa del risorto nella preghiera e anche ha bisogno la chiesa di un'azione intesa come condivisione di gioia del risorto in un apostolato comune di comunione di unità e tutto questo ci fa vincere le tentazioni della pigrizia dello scoraggiamento della paura di essere derisi per un messaggio che è controcorrente l'azione è lo sbocco naturale della contemplazione e la contemplazione è la radice di ogni azione azione che diventa luce per il mondo è risorto esulta il cuore è risorto più non muore santa vergine il tuo figlio preghiamo dio della vita che ognuno di noi ti dica in sincerità svuotami di me riempimi di te quando ho perso te ho perso il vero me quando ho trovato te ho ritrovato me e così inabitati della tua presenza e familiarizzati con la tua esperienza potremo narrarla annunciarla con fedeltà limpidezza gioia a quanti ci fa incontrare sul nostro cammino dio del nostro desiderio dio del nostro amore dio della nostra gioia noi siamo fatti per te e solo in te è la nostra pace è la nostra gioia è la nostra vita tu ci chiami per nome per farci tuoi annunciatori e ci mandi a chiamare per nome ogni viandante della terra ogni compagno di viaggio perché ciascuno di noi nella tua luce veda la luce e sarà a pasqua ogni giorno regina del cielo rallegrati alleluia perché il figlio di dio è veramente risorto alleluia il tuo amor il tuo amor è più forte di ogni cosa o signor tutto ciò che devo fare è da te lasciarmi amare che per primo mi hai amato oh signor